La condizione economica dei pensionati abruzzesi non è più sopportabile e sono i numeri a parlare, quelli illustrati dalla SPI CGL. In regione i pensionati sono 516.565 e stanno decisamente peggio rispetto alla media nazionale. Il 58% è una pensione inferiore ai 500 euro, oltre l'81% non arriva ai 1000 mensili, insufficienti per una esistenza dignitosa oggi, non solo per loro stessi. Per questo SPI CGL scende in piazza con lo slogan Appello Fuori la Grinta. I pensionati sono l'ammortizzatore sociale più importante, perché aiutano i figli, aiutano i nipoti, permettono gli studi dei figli, nonostante questi livelli bassi. Ora che succede? Che in una situazione di difficoltà noi dobbiamo comunque, come dice la nostra campagna, essere sia ribelli che liberi e che lottare per i propri diritti. E quindi i pensionati in questo ambito aderiscono alla manifestazione del 27 di novembre della CGL per i loro obiettivi, che sono quelli del miglioramento delle pensioni. Voglio dire solo una cosa, a parità di reddito la pensione viene tassata più del reddito di chi lavora, quindi questa è un'ingiustizia. Tra l'altro in Abruzzo abbiamo ancora soldi del sociale già stabiliti dal livello nazionale alla regione, che non vengono dati agli ambiti, quindi noi abbiamo in difficoltà i servizi. Quindi chiediamo all'assessore, e lo chiederemo anche con una manifestazione regionale dei pensionati, che questi soldi vengano svincolati, perché ci sono ma non vengono spesi, proprio per lo strato più a disagio per l'età, per la vecchiaia, per la sanità della nostra regione. Grazie a tutti.